Grazie Commissario De Luca, ha detto che mi avrebbe aiutato Stai calmo, non alzare la voce Hai precedenti penali e la faccia di reclamare? Comunque, dacci alcune informazioni e ti prometto un trattamento favorevole Cosa volete sapere? Di una certa Francesca Stiamo cercando una certa Francesca Chi vi manda? Nessuno, la stiamo cercando Stiamo su amici Ci sono due persone che cercano Francesca Sì, due Sì Va bene, scendiamo Seguite Sì, due Sì, due Sì, due Eccoli Eccoli Questo nome non ti dice niente Ma cazzo vuoi Sì, due 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 Va bene, va bene Subito, 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 subito Il Belli Il Belli è in pericolo Corri, corri Avvisa la squadra Finisci la squadra Finisci la squadra Sì, due Sì, due Sì, due Sì, due Sì, due